Grazie a tutti i miei amici e amiche in ascolto della diretta e tutti coloro che ascolteranno questa conversazione indifferita, un caro saluto da parte di Don Leonardo Maria Pompei con la mia benedizione, Dio vi benedica e salutiamo come sempre la Madonna con la prima parte della salutazione angelica, quando diciamo Ave Maria, la Madonna è come se volessimo dirla tutta l'Ave Maria ma non avendo il tempo di poterlo fare, gli diciamo soltanto le parole iniziali dell'angelo, è un gesto grazioso che si fa nei confronti di colei che tanto amiamo come nostra madre, maestra, signora, regina, modello e tante altre belle cose che ella è e molto di più anche di queste poche che siamo riusciti adesso ad elencare bene stiamo ancora viaggiando nell'opera di padre Gabriele Maria Roschini un'opera mariologica, un manuale di mariologia come sappiamo un po' particolare, un po' sui generis intanto è bene che ripassiamo appunto che questo grande teologo, grande mariologo ripeto, l'ho già detto tante volte, non voglio esagerare ma certamente una delle autorità ed elementi più luminose del secolo scorso in campo mariologico dopo il suo iniziale scettisismo rimase folgorato dagli scritti di questa nostra concittadina in particolare come dalla immagine della Madonna che ne risultava fuori e intraprese questa grande opera, un'opera da un lato molto impegnativa dall'altro anche molto molto coraggiosa insomma di scrivere un manuale di mariologia perché questo per chi conosce un po' di teologia ha proprio la struttura e il modo di procedere di un manuale classico certamente di mariologia, certamente nel secolo scorso però di mariologia con tutta quanta l'autorità che aveva insomma quindi certamente un'opera notevole io ho inteso presentarla mettendomi un pochino sulla scia di questo grande autore ovviamente non sono neanche lontano un miglio paragonabile al padre Roschini per due motivi primo per ricordare che se un mariologo del calibro di Roschini si è imbattuto in una simile impresa significa che reputava che ne valesse la pena sappiamo che la posizione di Maria Valtorta non ha ancora ricevuto dentro la chiesa un riconoscimento ufficiale attraverso l'iter canonico personalmente io ho già detto che ci vorranno tempi un pochino lunghi perché effettivamente la vicenda che ha coinvolto questa nostra concittadina è stata del tutto singolare, del tutto particolare il nostro signore è libero di fare quello che vuole è chiaro che però quando ci sono cose di questo genere io che sto dalla parte, diciamo così, dal versante anche delle autorità ecclesiastiche io sono solo un povero prete quindi sono l'ultima ruota del carro però capisco, mi rendo conto che dinanzi a un fatto del tutto eccezionale ci vorrà tempo tempi anche di assimilazione, di digestione su queste vicende purtroppo poi ci si mette di mezzo presumibilmente l'avversario suscitando questioni contestazioni critiche cioè inevitabilmente le cose diventano complesse ecco quindi ripeto, noi stiamo seguendo questo itinerario come un itinerario possibile quindi dando adesso il credito che è consentito dargli allo stato attuale quindi una fede umana e lo viviamo come un momento in cui meditare ecco sulle eccellenze della della Madonna quindi senza volere in nessun modo anticipare o sostituirsi al giudizio che a suo tempo speriamo che che dia la Chiesa in forma chiara e definitiva bene allora io a questo punto vorrei riprendere dopo questa breve introduzione le file del nostro discorso noi stiamo affrontando adesso Maria come prototipo della Chiesa prototipo significa, l'abbiamo detto ripetiamo, modello perfettissimo quindi ciò che la Chiesa è ed è chiamata ad essere ha raggiunto a livello personale in Maria già la sua massima concretizzazione la sua massima realizzazione abbiamo visto anzitutto Maria prototipo nell'amore verso Dio ricordiamo la puntata precedente tu sei Gesù in quell'espressione c'era tutto il suo cuore non solo di madre ma proprio di credente ecco di donna di donna di fede si potrebbe dire donna religiosa ma nell'accezione contemporanea donna religiosa che è un appellativo meraviglioso di per sé però nel parlare comune non è apprezzato insomma quindi una straordinaria donna di fede quindi la perfetta adoratrice e la perfetta adoratrice è amante del Signore perché nei confronti del Signore queste due disposizioni che sono quelle che Lui cerca e noi quindi amore e adorazione sono intrecciate come le liane delle foreste sono inseparabili l'una dall'altra perché l'adorazione senza amore corre il rischio di farci sentire Dio soltanto maestoso o troppo lontano l'amore senza adorazione corre il pericolo di farci cadere in quel detto popolare che la confidenza è la madre della mala creanza quindi dimenticare che è il nostro amore ma è anche il nostro Dio ecco in 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 Maria Santissima questo equilibrio era perfettissimo quindi a prescindere da quello che dice da quello che scrive Maria Valtorta Maria Valtorta non fa altro come dire che attraverso i suoi scritti evidentemente ribadirlo e mostrarlo in maniera viva la volta scorsa abbiamo visto quindi Maria nelle due ultime puntate precedenti prototipo dell'amore verso Dio oggi cominciamo il paragrafo 2 Maria Santissima prototipo della Chiesa nell'amore verso il prossimo anche qui per quanto riguarda la carità varia lo stesso discorso di prima cioè l'amore di Dio l'amore del prossimo rifacciamo l'esempio delle liane sono inseparabili inestricabili l'uno dall'altro perché San Giovanni dice non puoi dire che tu ami Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi questa è la prima cosa quindi non c'è amore di Dio senza amore del prossimo ma è anche vero che amare il prossimo senza amore di Dio risulta molto difficile perché amare il prossimo quando è simpatico e gradevole come dice Gesù nel Vangelo lo facciamo tutti lo fanno tutti lo fanno anche i pagani amare il prossimo quando diventa meno simpatico e meno gradevole è un po' più difficile ma amare il prossimo quando ci fa del male quando diventa nostro nemico è umanamente diciamo forse impossibile eppure Gesù nel Vangelo ci ha detto amate i vostri nemici evidentemente questo amore eroico nei confronti del prossimo è possibile solo se è grande l'amore di Dio quindi capite che anche queste due dimensioni sono inestricabili l'una dall'altra amore di Dio amore del prossimo sapete che la carità è simboleggiata dalla colomba che simboleggia anche lo Spirito Santo la colomba come tutti gli uccelli ha due ali non ce n'è uno solo quindi per volare ci vogliono tutte e due reali quindi con uno sola per quanto ma l'amore di Dio è più nobile sì ma soltanto con l'amore di Dio non si vola ah però l'amore di Dio è il grande comandamento Gesù ha detto vi do il comandamento nuovo che mi ha degli uni gli altri quindi a questo dobbiamo fare massima attenzione sì ma senza l'alla dell'amore di Dio non si vola ecco quindi insieme evidentemente la Madonna ha trovato questa sintesi perfettissima anche in questo adesso andiamo a vederci a gustarci più che a vederci le chicche dell'amore del prossimo che sono molto importanti io amici miei cari intenderei insomma come sacerdote come parroco come uomo chiamarmi uomo mi fa sempre un po' impressione insomma di quasi 50 anni esortare a essere sensibili su questo tema a raggiungere una grande raffinatezza e delicatezza di coscienza l'amore del prossimo esige delle scelte decise e per certi aspetti irrevocabili e irreversibili la scelta di non usare mai toni offensivi per esempio la scelta di non usare non solo mai toni auto-offensivi di non usare mai toni aggressivi di non aggredire la scelta di non insultare la scelta di non ferire la scelta di non ledere mai la buona fama di nessuno chiunque so sia qualunque cosa abbia fatto la scelta di non mancare per nessun motivo per nessun motivo di rispetto a nessuno mai in nessuna circostanza sono tutte quante anzitutto scelte certo non mi dirà non sempre è facile metterle in pratica che non sia facile siamo tutti d'accordo ma questa è l'importanza anche come dire è l'attività che continuamente diciamo così sollecita il parlare catechetico o anche la nostra orazione le catechesi e le meditazioni hanno sempre questa questa fine di farci interiorizzare anzitutto a chi le fa dei valori che poi piano piano entrino si depositino si amalgamino in qualche modo dentro dentro la pasta della nostra umanità e poi diventino criteri direttrici della nostra vita appunto irreversibili almeno come come criterio è chiaro che io posso dire voglio rispettare tutti un giorno mi salta la pazienza e do una risposta sgarbata o anche tagliente a qualcuno purtroppo questo può succedere però è diverso se io ho fatto questa scelta quindi se mi scappa chiederò perdono se è il caso sicuramente lo dirò alla prima confessione possibile non perché sia indispensabile perché nella confessione frequente su questo punto farò attenzione se ho scelto di ecco quindi su questo dobbiamo essere dobbiamo essere è importante maturare interiormente io ritengo che per esempio la buona fama del prossimo vada sempre e ad ogni costo difesa non macchiamoci mai di una cosa di questo genere e ricordiamo diciamo così il monito la grande massima dell'amore del prossimo tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi fatelo anche voi a loro abbiamo commesso uno sbaglio possibile diciamo io di quello lo accuso lo critico perché ha sbagliato e se avessi sbagliato tu come vorresti essere trattato tu dagli altri qualora tu avessi commesso uno sbaglio ti piacerebbe essere messo alla berlina ti piacerebbe essere oggetto di pur giuste critiche per carità hai fatto uno sbaglio saresti contento o saresti più contento se qualcuno mettesse in pratica quell'esortazione paolina che la carità tutto copre diceva l'antica traduzione dell'ino alla carità oggi troviamo tutto scuro se accadesse una cosa di questo genere bene facciamo lo stesso con gli altri allora vediamo la madonna la delicatezza ecco la assoluta che aveva nell'amore verso il prossimo Maria è veramente una maestra dell'amore verso il prossimo veramente degna su questo degna fotocopia del grande maestro che è il nostro Signore Gesù l'amore di Maria per il prossimo sto leggendo a pagina 348 perché ha la versione digitale fu proporzionato al suo amore per il Dio che ella amava nel prossimo la sua vita ci appare tutta profumata di amore di bontà di delicata finezza verso il prossimo ecco riflettiamo subito su questo trittico amore bontà essere buoni è bello essere buoni non essere cattivi e delicata finezza verso il prossimo non soltanto non permettersi diciamo le mancanze grossolane o le trasgressioni quando si tratta di peccati grossolane all'amore del prossimo non è proprio andare a alla finezza pensate che bello che sarebbe se tutti imparassimo proprio a non mortificare mai nessuno ma non solo a farlo sentire importante a farlo sentire considerato a farlo sentire accolto pensate che bello se fossimo capaci di arrivare a questa cosa penso che che sia bello insomma penso che è un pensiero che si possa condividere allora Maria Santissima dice Gesù alla Veggente sapeva senza alterarsi uscire dalla meditazione dalla preghiera dai suavi colloqui con Dio e tu puoi pensare a che altezze essi attingessero ed occuparsi del prossimo senza perdere di vista Dio e senza far capire al prossimo che ella era disturbata Maria sia il tuo modello non far capire al prossimo che siamo disturbati quando ci disturba d'accordo perché è vero che a volte il prossimo ci disturba e lo fa anche in maniera a volte come dire sconsiderata grossolana pensate alla Madonna no non solo non dire per carità non far notare ma non far capire di essere stata disturbata quindi vedete il tasso di raffinatezza no se qualcuno ci disturba già è un miracolo se uno rimane tranquillo e non reagisce malamente un miracolo no ma ci vuole una discreta dose di virtù ecco poi uno potrebbe anche non reagire malamente però magari lo fa notare direttamente quindi lo dice se però guarda oppure un'altra volta non lo dice ma lo fa notare intelligentemente quindi con un con uno sguardo con un atteggiamento con un'occhiata quindi lo fa notare oppure e già questa è grandissima virtù non lo fa notare ma lo fa capire ecco se uno riesce anche a lavorare per non farlo nemmeno capire ecco veramente comincia ad arrivare alla perfezione dell'amore comincia bene leggiamo qualcosa adesso la vita la vita dice Gesù è fatta di cose comuni ma che rivestite di amore rivengono eccelse mia madre è stata ugualmente grande e degna dell'ammirazione degli angeli nell'attimo del suo fiat come quando lasciando le contemplazioni e la meditazione del dolore che avrebbe ferito lei attraverso la sua creatura si dedicava alle umili incombenze della donna lavando con amore i miei piccoli panni cucinando con amore il cibo allo sposo rassettando con amore la casa ascoltando con amore i bisogni dei vicini sentite no c'è questa cantilena si dedicava alle faccende di casa con amore a lavare i panni quanto varrà agli occhi di Dio lavare i panni con amore tutti i maestri di spirito su questo sono d'accordo tu puoi fare la cosa più grande di questo mondo può essere il papa d'accordo nessuno vuole può essere la persona che fa delle cose più grandi insomma più rilevanti il presidente degli stati uniti che ne so eccetera ma non è quello che ti fa grande agli occhi di Dio tu puoi fare delle cose che hanno rilevanze immense un magistrato un capo di governo Dio non guarda quello che fai cioè la nostra grandezza non è data da quello che facciamo ma da come lo facciamo con amore cucinare il cibo allo sposo con amore pensate quante donne che volessero come dire imitare un pochino la madonna già in queste parole no? non c'è niente di cui vergognarsi niente di umiliante niente di di degradante o di non nobilitante a fare queste cose con amore anzi rassettando con amore la casa con amore non rontolando e ascoltando con amore i bisogni dei vicini anche l'ascolto che noi diamo alle altre persone è un atto d'amore e vediamo Gesù come descrive l'amore al termine questi sono i quaderni del 43 è una citazione dei quaderni del 43 l'amore è sempre pronto pieghevole dolce ilare generoso e paziente ecco tutti quanti quelli che ascoltano in diretto in differita con me mano a mano che diciamo queste cose facciamo una preghiera interiore al signore signore fammi diventare così ti prego io ce la metterò tutta ma dammi una mano chiediamone anche la madonna facci diventare simili a te no sempre pronto pieghevole piegarsi no quindi qual è il contrario del pieghevole chi è rigido è il contrario del del pieghevole ci stanno le sedie pieghevole e le sedie che non si piegano sono tutte da un pezzo ci stanno i tavoli pieghevoli e i tavoli che non si piegano sono tutti da un pezzo l'amore è pieghevole si piega si piega si lascia plasmare si lascia modellare si lascia come dire anche provocare dalle circostanze comuni della vita ancora l'amore è dolce San Paolo scrive nelle sue lettere bellissimo passo mi ha sempre colpito scompaia da voi ogni asprezza sdegno ira clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità frase da da twittare solo che sulle frasi di questo genere generalmente non ci vanno tanti like scompaia da voi ogni asprezza la asprezza deve sparire se vogliamo entrare nell'orizzonte dell'amore sdegno lo sdegno è quando lo sdegno è quando uno si arrabbia per giusta causa capito quindi c'è qualcosa di brutto io mi sdegno mi indigno no questo questo non lo posso sopportare no questo non deve accadere no questo è troppo no questo bisogna assolutamente questo è lo sdegno ira quando uno si arrabbia clamore maldice clamore quindi le grida maldicenza quindi si parla male si critica si spalla con ogni sorta di malignità quindi ha torto a ragione san paolo dà il programma di un buon cammino verso verso la caritano quindi l'amore è dolce poi l'amore è ilare ilare significa che è allegro sorridente propositivo flessibile anche come dire al sano gioco al sano alla sana facezia quindi a quella che fa sorridere insomma senza ferire ovviamente no senza andare a a stuzzicare nessuno no è l'ilarità un'altra cosa molto molto bella poi l'amore è generoso se può dà e si dà gli esempi eroici che hanno lasciato i santi uno gli chiedeva l'elemosina e gli davano la metà delle cose poi incontrava un altro e rimanevano senza un centesimo poi lo incontrava un altro povero per strada e se levavano la camicia all'altro se levavano i pantaloni e alla fine restavano veramente sono successe queste cose sono veramente edificanti generoso e poi paziente la pazienza la capacità di sopportazione sia delle misere del prossimo e anche delle misere nostre insomma ecco perché l'amore verso il prossimo ti ricordiamo che oltre che l'amore di Dio esige anche il sano amore verso noi stessi e amerai il prossimo tuo come te stesso dice Gesù beh andiamo avanti nell'Evangelo come mi è stato rivelato troviamo vari fiori fragrantissimi di amore verso il prossimo ci limitiamo a riportare qui i più emozionanti le chicche le perle di Maria proprio i ritratti della sua straordinaria meravigliosa bellissima edificante personalità siamo nel terzo anno della vita pubblica di Gesù questo è bellissimo questo è un episodio veramente meraviglioso egli si trova sul Gessiamma di con Maria sua madre mentre discorrono arriva di corsa il piccolo Marziam e dice alla Vergine c'è una donna una donna che vuole vedere te o madre dice che ti ha conosciuto a Betlemme si chiama Noemi e ne ha conosciute tanti allora dice Maria ma andiamo Betlemme significa quando nacque Gesù stiamo al terzo anno della vita pubblica quindi sono passati oltre trent'anni abbondanti no? giungono al piazzaletto dove è la casa un gruppo di persone attende e appena vede Gesù si prostra ma subito una donna si alza e corre a gettarsi ai piedi di Maria salutandola a nome chi sei? io non ti ricordo alzati la donna si alza e sta per parlare quando giungono traferati gli apostoli tutti si affollano ad ascoltare la donna tu dice la donna Maria non ti ricordi di me o Maria di Betlemme ma io da trentuno anni e ricordo il tuo nome e il tuo viso come quello della pietà ero venuta anche io da lontano da Perge per l'editto ed ero gravida ma speravo di tornare in tempo il marito si ammalò per via e a Betlemme languì fino a morire io avevo partorito da venti giorni quando egli morì e le mie grida forarono il cielo e mi seccarono il latte o lo fecero veleno io mi coprì di pustole e di pustole si coprì il figlio mio e fummo gettati in una spelonca a morire ebbene tu tu sola venisti guardinga ogni poco per tutta una luna portandomi cibo e medicando le mie piaghe piangendo con me dando latte alla mia creatura che è viva per te per te sola hai rischiato di essere uccisa a colpi di pietra perché mi chiamavano la lebrosa oh mia stella suave non ho dimenticato questo sono partita dopo la guarigione e ho saputo della strage a Efeso sta parlando ovviamente della strage degli innocenti ti ho cercata tanto 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 non potevo crederti uccisa col figlio nelle notte tremenda ma non ti ho mai trovata nella scorsa estate uno di Efeso o di tuo figlio seppe chi era lo seguì al contempo fu con altri dal suo seguito ai tabernacoli e tornando ha detto io sono venuta per vederti o santa prima di morire per benedirti tante volte quante sono le stile del latte che hai dato al mio Giovanni levandolo al figlio tuo benedetto la donna piange stando in posa riverente un poco curva con le mani strette alle braccia di Maria Maria risponde il latte non si nega mai sorella e oh no io non sorella tua tu madre del salvatore io povera donna sperduta lontano dalla sua casa vedova con un figlio al seno al seno arido come torrenti in estate senza te sarei morta tu tutto mi hai dato ed ho potuto tornare dai fratelli miei mercanti a Efeso per te eravamo due madri dice Maria due povere madri con due bambini per il mondo e tu avevi il tuo dolore di vedova io quello dovevo essere trafitta nel mio figlio come diceva nel tempio il vecchio Simeone non ho fatto che il mio dovere di sorella dandogli ciò che tu non avevi più e il figlio tuo vive egli è là e il tuo figlio santo me lo ha guarito questa mattina che ne sia benedetto e la donna si prostra al salvatore gridando vieni Giovanni a ringraziare il Signore viene avanti lasciando i compagni un uomo dell'età di Gesù robusto dal volto leale se non bello di bello all'espressione degli occhi profondi la pace a te fratello di Betlemme di che ti ho guarito dalla cecità Signore un occhio perduto l'altro prossimo a perdersi ero sinagogo ma non potevo più leggere i sacri rotoli ora li leggerai con maggior fede gli dice Gesù no Signore ora leggerò a te voglio rimanere come discepolo e senza vantare diritti per le gocce del latte succhiate al seno dove tu ti nutrivi non sono niente i giorni di una luna per creare un legame ma tutto è la pietà di tua madre allora è la tua di questa mattina Gesù si volge alla donna e tu che ne pensi che mio figlio ti appartiene per due volte accettalo Signore e il sogno della povera Noemi sarà compiuto sta bene sarai del Cristo a voi riceverete il compagno in nome del Signore dice volgendosi agli apostoli i proseriti sono esaltati di emozione gli uomini vorrebbero subito rimanere tutti ma Gesù fermamente dice no voi restate ciò che siete tornate alle vostre case conservando la fede e attendendo l'ora della chiamata e il Signore sia sempre con voi andate potremmo trovarti ancora qui chiedono no come un uccello che vola di ramo io andrò senza sosta non mi troverete qui non ho itinerario di dimora ma se giusto sarà ci vedremo e mi udrete andate resti la donna col nuovo discepolo ed entra in casa seguito dalle donne e dagli apostoli che commentano commossi l'episodio ignorato fino ad allora e la carità profonda di Maria e Gesù con passo sollecito va a Betania sono ai suoi lati Simone Zelote e Marzian felici di essere loro due i prescelti per questa visita Marzian fa mille domande sulla donna venuta da Efeso chiede se Gesù sapeva questo fatto e così via non lo sapevo risponde Gesù le bontate di mia madre sono infinite e fatte con cosimmite silenzio che restano per lo più ignote qui evidentemente Gesù non c'è bisogno insomma di specificare che sta parlando in quanto uomo no? commentare questo brano è molto difficile ecco io confesso che mentre lo leggevo ho avuto insomma delle reazioni emotive che grazie a Dio ho controllato insomma perché non è tanto bello non controllarle in pubblico però è un episodio a mio avviso assolutamente commovente ma incredibilmente edificante proprio questa è la la Madonna è così Maria Santissima è così è proprio fatta così è fondamentale come dire innamorarci di questo immenso esempio quanto è bello essere cioè questa si è ricordata per 31 anni pensiamo a quanto a quanto potrebbe essere bella la nostra vita se facciamo una cosa buona oggi tra 20 anni viene qualcuno a dirci a cercarci a dirci guarda che mi hai salvato la vita quando noi amiamo il prossimo lasciamo anche un ricordo bello di noi non è un fatto egoistico insomma un fatto ma è una cosa bella è una cosa bella è una cosa bella e anche cioè come guarda il Signore un atto del genere ma un atto del genere il Signore lo guarda con un occhio non di compiacenza come dire di più di più ed è interessantissima la nota di Gesù le bontà di mia madre sono infinite e fatte con cosimmite silenzio che restano per lo più ignote agli uomini non a Dio e ai diretti interessati ovviamente ecco potessimo imparare da Maria Santissima questa larghezza di cuore vedete qui non è che Maria portava del cibo ha nutrito un bambino al latte non ha avuto nessuna paura di contagiarsi dalle malattie è andata a portare una parola un conforto quindi è stato un atto di carità multipla rischiando perché la credevano lebrosa e a quei tempi se un rebroso veniva a richiudere il recluso nessuno poteva avvicinarsi un altro episodio tutto fragrante di carità accadeva a Nazareth durante una visita fatta da Giuda Iscariota a Maria giunto alla porta dell'umile casetta di Nazareth Giuda bussa 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 ma nessuno apre lo vede Alfeo di Sara e gli dice hai voglia bussare Maria è da una povera vecchia che muore l'hanno chiamata che era la terza vigilia ma io risponde Giuda le devo parlare allora Alfeo premuroso scende e corre ad avvertire Maria dicendole che vi era uno che la cercava seccato per essere stato visto da Alfeo Giuda esclama sdegnato non me ne va bene una e tira giù una litania di improperi a Nazareth a Nazaretani a Maria d'Alfeo e perfino alla carità di Maria Santissima per la morente e alla stessa morente non è ancora finito che la porta che dalla stanza dei pasti mette nell'orto si apre e sulla soglia appare una Maria molto pallida e triste Giuda Maria dicono contemporaneamente ora ti apro la porta Alfeo non mi ha detto altro che va a casa c'è chi ti vuole e sono corsa molto più che la povera vecchia non ha più bisogno di me ha finito di soffrire per un figlio cattivo Giuda intanto che Maria parla corre lungo il viotto le torna sul davanti della casa Maria apre la pace a te Giuda di Keriot entra la pace a te Maria Giuda è un po' titubante Maria è mite ma seria ho bussato tanto all'aurora dice Giuda ieri sera un figlio ha fatto scoppiare il cuore ad una madre e sono venuti a cercare Gesù ma Gesù non c'è anche a te lo dico Gesù non c'è sei venuto tardi lo so che non c'è dice Giuda come lo sai sei appena arrivato madre voglio essere schietto con te che sei buona e da ieri che sono qui e perché non sei venuto i tuoi compagni in questi sabbadi solo una volta non vennero eh lo so sono andato a Cafarno e non li ho trovati non mentire Giuda a Cafarno tu non ci sei mai stato Bartolomeo è sempre rimasto là e non ti ha mai visto solo ieri Bartolomeo è venuto ma tu ieri eri qui e perciò perché menti Giuda non sai che la menzogna è il primo passo verso il furto e l'omicidio la povera Esther è giunta a morire uccisa dal dolore per la condotta del figlio e Samuele suo figlio cominciò a divenire la vergogna di Nazareth con delle piccole menzogne divenute poi sempre più grandi da queste passò tutto il resto lo vuoi imitare tu apostolo del Signore vuoi far morire di dolore tua madre il rimprovero è fatto a voce bassa lentamente ma come incide Giuda non sa che ribattere si siede di schianto col capo fra le mani Maria l'osserva e poi dice ebbene perché mi hai voluto vedere mentre assistevo la povera Esther io pregavo per tua madre e per te perché mi fate pietà l'uno e l'altra e per due diversi motivi allora se hai pietà perdonami dice Giuda non ho mai avuto rancore quindi esorta con materna carità il perfido apostolo a convertirsi ad avere pietà di sua madre così straziata per la sua pessima condotta e conclude piangendo ma stolta sono a pretendere pietà da te che non l'hai per tua madre anzi ecco è detto con un solo colpo trafiggerai me e lei o figlio disgraziato che le preghiere di due madri non salvano e Maria dopo la notte passata in veglia manda Giuda a riposare nello stanzone e si mette a preparargli con amore e con dolore il cibo e questo è un episodio differente dal primo qui la Madonna è intenta a praticare due opere di misericordia spirituale noi siamo sempre molto colpiti e per carità ne abbiamo visto una meravigliosa prima dalle opere di misericordia corporale quindi portare dare da mangiare agli affamati dare il latte ad un bambino la cui madre non è più in trovo di farlo che rischia di morire certamente questi sono gesti ma ci sono delle bellissime opere di misericordia spirituale consolare gli afflitti la Madonna la invochiamo nelle litanie lauretane come la consolatrice degli afflitti non era in casa perché era andata a consolare questa povera donna a cui era morto questa sì questa povera famiglia che aveva fatto che praticamente no questa la famiglia di questa povera donna che era morta di crepa cuore a causa delle malefatte del figlio ieri sera un figlio ha fatto scoppiare il cuore ad una madre e le andrà a portare conforto consolare gli afflitti è un'opera di grande misericordia spirituale quanto abbiamo bisogno noi di essere consolati una proprietà divina lo spirito santo si chiama il consolatore no la vecchia traduzione della cei di quel termine greco paraclitos adesso è tradotto con paraclito no ma il consolatore colui che sta vicino è letteralmente paracaleo cioè colui che 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 viene chiamato per essere vicino quindi la vicinanza è importantissimo che noi impariamo guardate che l'amore è un'opera tanto difficile per noi poveri peccatori almeno perché richiede un'attenzione richiede un fare cioè sai che una persona sta male devi fargliela almeno una telefonata mandargli almeno un messaggio fargli almeno una visita mandare un segno della tua presenza della tua vicinanza sono delle attenzioni anche qui è chiaro che se io ho interiorizzato la bellezza e l'importanza di questo lo farò consolare gli afflitti le persone che sono nel pianto le persone che sono nel dolore qualunque sia la causa di questo dolore anche qui quando siamo stati consolati da qualcuno noi lo ricordiamo e non sarebbe bello essere ricordati come dei grandi consolatori quelli che facci sempre di dire una parola buona una parola di conforto di speranza anche qui ho citato San Paolo prima sia benedetto Dio Padre del Signore nostro Cristo il quale ci consola in ogni nostra tribolazione la consolazione che ci dona Dio cioè Dio non è non è contento di vederci soffrire purtroppo alcune sofferenze non ce le può risparmiare per il nostro bene ma insieme alla croce ti manda sempre la consolazione sempre il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché perché possiamo anche noi consolare dice San Paolo quelli che si trovano in qualunque genere di afflizione come con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio sollevare sollevare il prossimo dai pesi consolarlo non essere mai non diventare mai anche involontariamente no persone che ci mettono il carico da undici sopra quindi che anziché consolare come dire aggravano la situazione diciamo così di chi già sta in un momento di prova in un momento difficile quindi è proprio della carità essere dei consolatori proviamo a pensarci sarebbe bello che diventassimo tutti quanti dei buoni consolatori e per capire quanto sarebbe bello pensiamo a quanto siamo contenti e a quanto desideriamo quando stiamo giù quando stiamo male quando stiamo afflitti provati da tante cose ricevere consolazione anche qui a volte la consolazione è semplicemente un gesto di vicinanza non bisogna fare chissà che cosa cioè se tu è una persona che sta soffrendo la guardi facendogli un serriso ma adesso purtroppo la pandemia non ci fa fare più niente stringere una mano dare un abbraccio speriamo che presto il Signore ci conceda la gioia di poterlo rifare e quelli in certi momenti sono gesti che non si dimenticano mai un linguaggio universalmente compreso questa è l'evangelizzazione universale non tutti credono che Gesù Cristo è il figlio di Dio purtroppo non ci arrivano ma tutti comprendono il linguaggio dell'amore quello senza dubbio è il linguaggio universalmente compreso più delicato il ministero compiuto nei confronti di Giuda ora dobbiamo pensare che la Madonna non ignorava purtroppo come dire l'irreversibilità la condizione irricuperabile di quest'uomo che nonostante fosse oggettivamente irricuperabile questa è una cosa bellissima che appare dagli scritti di Maria Valtorta gli oppositori gli avversari di questi scritti tutte le posizioni sono perfettamente insomma condivisibili ma ci sono comunque delle cose meravigliose cioè vedere come Gesù ha cercato fino alla fine con tutto l'amore e la dolcezza possibile immaginarsi è immaginabile di recuperare quest'uomo dalla volontà ostinata nel male seguire anche la psicologia di quest'uomo Giuda questo combattimento che si portava dietro dei momenti in cui aveva delle emozioni della grazia e allora cominciava a piangere a disperarsi e supplicava dice maestro aiutami a diventare migliore gli durava due giorni e poi ricominciava a far peggio di prima è interessantissimo anche proprio lo studio di di questa figura e vedere anche il comportamento che hanno Gesù e Maria cioè qui la Madonna cerca delicatamente e questa è una leva su cui ha fatto molto 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 conto anche Gesù per cercare di di fermare quest'uomo no? quale? l'affetto per la mamma Giuda voleva molto molto bene la mamma aveva diciamo un profondo affetto anche se purtroppo come appare dagli iscritti trattava la mamma insomma veramente non bene ma le voleva molto molto bene la leva dell'amore della mamma è stata utilizzata tante volte da Gesù e Maria perché tanto l'amore di Dio funzionava poco altri argomenti funzionavano poco l'argomento dei della minaccia dei dei castighi è sempre quello che funziona meno di tutti purtroppo anche se può anche affrontare tematiche reali ma generalmente difficilmente funziona allora la leva che è stata toccata era l'amore della mamma non dare questo dolore così grande a tua mamma d'accordo? se abbiamo le mamme ancora vive è un buon deterrente insomma di qualche non buona azione perché una mamma se vede che un figlio fa una cosa che non va preferirebbe mille volte morire piuttosto che vedere una cosa del genere poi delicatamente giudamente cioè da un lato una verità gliela dice che stava lì da prima lui praticamente non si era presentato agli appuntamenti con gli apostoli questo era il contesto lo ricordo questo episodio perché non gli andava di andare con loro ma voleva farsi un pochino di affari suoi ecco ecco perché e siccome mente per dire questa cosa dice guarda che sono andato a Caparnao perché non poteva si vergognava di dire alla Madonna quello che aveva fatto presumibilmente aveva combinato qualche altro guaio insomma adesso non ricordo i dettagli di questo episodio e la Madonna dice non mentire Giuda dando anche dei criteri molto molto importanti di discernimento spirituale e proprio di di sapienza si comincia dal poco e si finisce col molto e Giuda purtroppo stava imbroccando questa strada la menzogna ecco è cosa da fuggire sempre e comunque non siamo mai leggeri con queste cose mi raccomando è è lo stesso discorso che facevamo prima cioè prima ho detto la scelta di amare il prossimo è una scelta non è detto che uno ci riesce sempre ma se io dico io non voglio mancare di rispetto a nessuno signore aiutami ok ecco la stessa cosa io non voglio mentire mai mentire significa attenzione a dire il falso non è mentire non dire tutta la verità perché non bisogna dirla non bisogna dire tutto quello che si pensa anzi non bisogna dirlo ricordiamo sempre il proverbio che lo sciocco dice quello che pensa il saggio pensa a quello che dice non è assolutamente mentire il celare qualche cosa per ragione di carità la cosa che non bisogna mai fare è dire il falso non non dire ciò che non si deve d'accordo si può portare il discorso da un'altra da un'altra direzione si può rimanere sullo generico si imparano tante piccole cose per dire sempre il vero senza dire tutto ma senza mentire mai un atteggiamento mi raccomando non voglio far sentire male nessuno se ne attaccare nessuno ma è un'ammunizione contro un pericolo contro un atteggiamento cioè dire vabbè adesso devo dire una bugia di scusa la dico tanto non sarà mica la fine del mondo non è un modo di procedere intelligente questo qui né intelligente né saggio né santo perché mentire anche per fini buoni quindi o per trovare una scusa è sempre un peccato perché c'è l'ottavo comandamento non è un'imperfezione quindi è una trasgressione a un comandamento di Dio certamente è un peccato lieve la bugia piccola è proprio l'esempio emblematico diciamo così del peccato veniare nel senso che anche quando è volontaria quindi deliberata essendo una materia lieve non può mai diventare un peccato grave ma noi non è mai una cosa saggia da fare portare la nostra volontà a fare un atto positivo di scelta di una cosa che sappiamo essere cattiva anche su questo Gesù nel corso dell'opera tantissime volte appena sentiva una piccola bugia interveniva non mentire non mentire non mentire ricordiamo sempre che il nemico della nostra salvezza si chiama il padre della menzogna quindi la menzogna dobbiamo proprio tenerla lontano ecco tutta quanto una serie di comportamenti degradanti la menzogna la volgarità via via bene ci lasciamo con questa con questa con questa immagine notiamo la delicatezza con cui Maria cerca di entrare piano piano nel cuore di Giuda toccando insomma alcune corde sollecitandolo no e poi gli chiede lo provi dice perché mi hai voluto vedere quindi lo invita a chiedergli aiuto perché la Madonna l'avrebbe tirato fuori dai guai Giuda io ricordo che nell'opera a un certo punto Gesù lo manda un po' di tempo beato Giuda a vivere un po' di giorni dalla Madonna non c'è riuscito manco la Madonna a far rientrare in sé quest'uomo no? ecco però impariamo da lei ecco ammonire i peccatori che è una grande opera di misericordia spirituale non significa andare come carri armati entri entrare in tekel e fare rimproveri diretti accuse o cose di questo genere è un'arte delicatissima per cui è una delle opere di misericordia più difficili mi raccomando attenzione per cui prima di farla questa bisogna veramente imparare a farla bene perché altrimenti si corre il rischio di fare più male che bene perché già è molto difficile che una persona si corregga quando viene corretta con tutta la carità possibile immaginabile come quella che usava la Madonna figuriamoci quando ahimè l'improvero diventa come dire una critica aspro un'aggressione violenta che oltre che essere una grande mancanza alla carità e all'amore del prossimo produce generalmente più male che bene bene cari amici ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata ringraziamo il Signore per il bene che ci è venuto da queste belle cose che abbiamo letto Dio vi benedica e la Madonna vi protegga a presto